cq cq qui falco a tutti qui falco a tutti auto grill chef express a4 direzione desensano per manovalanza non dice gode fa la puntata settimanale della rubrica o rubrica quelli che il falco ma per l'occasione cercherei di vorrei chiamarla in un altro modo cioè anna del point of view un altro modo di vedere le robe c'è un altro punto di vista in pratica no perché praticamente sono fermata l'auto grill e nel giro dei sette minuti che si cedì de che le robe ma te che le robe che oltre chi non ha un'idea è nata che si mette sulla freeway e poi si mette a bello bello 110 110 allora lo tra passo anche nota perché se non si dimenticare no allora vedete auto grill semi deserto siamo me la nati passola che serve perché giustamente col covid 19 corbia tanta gente fu alla cassa aspetti che vi è questa che allora vedete du murus e murusa dal dall'accento secondo me non erano italiani ma non è quello problema che si è vicino a me da nulla vede che lui tira fuori la mano delle braghe alle danti e beh le ho detto figa dalla macchina alla cassa l'auto griglia si è ben saltata ad ossa ferma da qualche banda anche roba là nella corsia di emergenza mi ha bisogno di fare quelle robe va bene la tipa che sta facendo il caffè viene lì e lei mi fa prego mi dica e me che fa un latte macchiato e una brioche con la marmellata stia attenta a non sbagliarmela e lei mi fa ma il latte macchiato lo vuole così o lo vuole così e me che fa scusami mi fa rivedere perché sei un po' distante una che ti ha fatto cioè ci va in simula praticamente la capacità dal bicicletta di una che ti dice lo vuole così o lo vuole così se c'è se ti pensi cazzo con la madonna l'inter dal lato la mia parzialmente scrammato che il bie oltre che dal volantino a saccaghe ad ossa prima di ria a destinazione no vabbè niente in pratica andate a guarda che ci cade vende ma un'umbrella un turista per sempre un nero per caso quelle robe le e praticamente qualche volant comincia a mangiare la mia brioche che è arrivato il latte così e e niente comincia a mangiare ria metta brioche per ammigire i coglioni perché praticamente dalla marmellata se veste se veste niente in pratica andate a ria poche du la dalla ma andale braghe e si si c'è no questi che comincia a chitarci la se no figati passa gira e la gaffa scusi signora se se parla tira sulla mascherina se mangia la tira giù mi parla c'è sia mia legato a diga su me a me oggi paghiamo lì la gattina se la gabit con la mascherina in bocca che si c'è da te perché l'ha usata 3 poi cosa chiede diga a ecco niente finisce te fu giro per andassò alla toilette ai miei appartamenti che era per la mamma sai che la gara buona le le tre nello chiede so le gara che ti cerca i soli non sa che pensi che la gammia perché gammia gammia tanta gente e il genio cioè io dico sempre quando uno è in giro con il genio cioè te che anche vedo è fonte di ispirazione per lì se vi dicendo che in pratica sono da direte nei bagni e vuoltre sì che nei bagni che sempre delle scritte tipo sono mia me vieni qua che te la do io se non l'hai mai vista te la faccio vedere io mi ingroppo tuo fratello quelle robe l'è stavolta che era scrive praticamente siccome che è bell'etica anche più dura perché che è covid sono dato a mia nel bagno ma nei gabineti insolito che le vi da bandare altre no gli urinatoi che c'è il solito adesivo con scritto attenzione mantieni la distanza di un metro e in sotto con l'uniposca che messo miechi le assolutamente al cascari sotto è che scritto mantiene la distanza di un metro se ce l'hai lungo anche un po di più allora voi di è il genio c'è venerdì figa spettacolo casso e fosse che è la gallina in offerta la gallina cocodè 24 90 che con mia doggio che con una fotografia dopo grossa di sei 24 90 con le pira la fa cocodè la fa l'uovo da ciccolato poi ho preferito non comprarmela fu ora per concludere che al nigger sei il basilico che mi fa auguri amico auguri un cazzo